Oggi 23 novembre ricorre il Black Friday, ovvero il venerdì in nero, la giornata che nella tradizione statunitense dà il via allo shopping natalizio. Da alcuni anni sono previsti sconti offerti a tempo anche in Italia. Sono infatti tanti i negozi che aderiscono alla giornata di saldi e a volte allungano l'evento per più giorni. Cosa ha acquistato con gli sconti? Un paio di jeans e un paio di guanti. Delle borse e delle giacche. Quale sconto hanno applicato? 50%. Signore, avete approfittato del Black Friday per fare acquisti? Qualcosina. Qualcosina, roba di poco, ma non molto. Cosa avete acquistato? Adesso un pantalone, ma poi anche altre cose, insomma, il 30%, il 20%, quindi ottimo, sì, ci è piaciuto. Cosa avete acquistato di bello? Fatuta. Quale sconto le è stato applicato? Il 20%. Quindi buono? Buono, sì, buonissimo. Soddisfatta? Sì, sì, grazie mille. Come è partita questa giornata di saldi? Beh, oddio, diciamo che è ancora presto per dirlo, però dai, un pochino di movimento c'è. Avete applicato sconti su tutta la collezione o solo su alcuni prodotti? Noi su tutti i prodotti che abbiamo, sì, tutto al 30%. Ti acquisterà qualcosa? Ma gli sconti si deve fare non adesso, nel momento in cui, si deve fare tutto l'anno. Signora, approfitterà del Black Friday per fare gli acquisti? Probabilmente sì. Ha già visto qualcosa che le piace? Non ancora. Allora la lascio al suo shopping. Grazie. Ho acquistato uno spremi, come si chiamano? Spremi agrumi? Sì, brava. Ma che sconto le hanno applicato? 30. Soddisfatto quindi? Molto. Ma questa giornata soddisfa davvero tutti? Come mai? Non le piace questa giornata? No, no. È che è inutile eseguitare e riempirsi di roba. Questi sconti sono reali secondo lei? No, non sono reali perché quando entri in un negozio ti fanno vedere degli stentini, gli sconti sono al lato destro e l'altro sinistra no, quindi fanno quello che dicono loro. Non è vero che lo mettono in tutte le cose. Pochi sconti? Sì. Quasi niente, non bene. Mi mettono solo su alcuni articoli per cui... Ci sono anche negozi che non aderiscono al Black Friday, come mai? Beh, noi siamo un negozio con dei top brand di prestigio che non possono aderire a queste iniziative e poi anche una questione di rispetto ai nostri clienti abituali che devono essere appunto protetti. Non possiamo per una questione di serietà, non è una cosa polemica.